Nel 2016 abbiamo avuto un aumento del numero delle transazioni, un aumento consistente che possiamo quantificare in un 25-27% a seconda delle zone e quindi questo sicuramente fa bene sperare. Il secondo anno consecutivo che il mercato ha una fase di ripresa e quindi guadagna quello che era il numero delle transazioni. Il numero delle transazioni è un aumento che non significa invece variazione per quanto riguarda l'andamento dei prezzi perché le quotazioni medie sono ancora in discesa e nel corso dell'ultimo anno abbiamo avuto un assestamento dei valori che comunque hanno fatto segnare in tutta la nostra regione delle medie tra il meno 2 e il meno 5% a seconda delle zone. Tutti i comuni che affacciano sul mare, indipendentemente dalla provincia di Spezia, arrivare a 20 miglia sono quelli che sicuramente funzionano di più. Sono i comuni che hanno avuto un maggior decremento sia in termini di transazioni di valori e sono stati i primi a ricominciare questa lenta fase di ripresa anche perché gli si vende prevalentemente la seconda casa.